Musica Ladri Nazioni, la scorsa notte nella periferia nord di Isegna, numerose segnalazioni di residenti in allarme. Musica Questa mattina a Casteldisangro alla cerimonia d'inaugurazione della piscina olibionica anche il commissario della Nazionale Spalletti e Paolo Bonolis. Mobilità in deroga per gli XITR e Filomena Calenda, basta trattarli da lavoratori di serie B. Al neurome della giornata nazionale del Parkinson con il libro di Alessandro Ariemma e un focus sulla malattia. A Isernia il 25esimo anniversario della cooperativa Line, ricordo del fondatore Nino Santoro, scomparso di recente. Buongiorno e benvenuti, benvenuti a questo telegiornale, il primo telegiornale della Regione Molise. Andiamo in onda ogni giorno a l'una e mezza sul canale 12 e diamo per primi le notizie della Regione Molise. Buongiorno anche ai telespettatori dell'Abruzzo che ci seguono sempre più numerosi. Grazie a tutti voi ed è tornata la neve in Molise e anche in Abruzzo. Da ieri sera una coltre bianca ha iniziato a ricoprire Capracotta, Miranda, Frosolone, Agnone e Prato Gentile. Lo vediamo nelle immagini. Mentre una lieve nevicata ha interessato anche il campo basso. Nel video pubblicato da Neve Appennino possiamo vedere Capracotta completamente impiancata. In questo fine settimana le aree interne della nostra Regione subiranno un netto calo termico con possibili precipitazioni anche in alcune zone collinari. E davvero bisogna ringraziare il Padre Eterno per questa neve che ci manda perché siccome l'ultimo inverno non ha visto molta neve, stiamo pagando adesso le conseguenze, non c'è acqua, c'è la crisi idrica. Se comincia a nevicare da adesso si riforma la neve sulle montagne e si riformano così, si ricaricano così le sorgenti che nutrono gli acquedotti. E ora ancora cronaca, raffica di furti a Isernia, almeno quattro ville prese di mira dei ladri nelle borgate. In un caso il colpo è stato sventato dall'entrata in funzione dell'allarme. I carabinieri spiegano come difendersi. Il servizio di Carla Marina. Notte è movimentata alla periferia di Isernia a causa di una banda di ladri che ha preso di mira diverse abitazioni tra le frazioni di Cutone e Salietto. Almeno quattro le ville colpite, in una di queste il colpo non è andato a segno perché i malviventi sono scappati non appena è scattato l'allarme. I topi d'appartamento sono entrati in azione già nel tardo pomeriggio, approfittando del buio anticipato dato dall'orario solare. I proprietari delle case svaliggiate in questi casi si erano allontanati temporaneamente dalle proprie abitazioni per svolgere le commissioni di routine di ogni nucleo familiare come la spesa o le uscite per accompagnare o riprendere i figli dai vari appuntamenti quotidiani. Per questo motivo la modalità dei furti è stata mordi e fuggi. I ladri hanno portato via solo quello che sono riusciti a trovare nell'immediatezza, senza poter cercare in maniera più approfondita eventuali nascondigli. Portati via contanti e gioielli, ma anche bigiotteria e articoli di elettronica. Sugli episodi stanno indagando sia i carabinieri che la polizia, che fin dalle ore notturne hanno avviato un servizio rafforzato di vigilanza negli orari e nei luoghi più sensibili, che proseguirà anche in futuro. In attesa della formalizzazione delle denunce e della quantificazione del bottino, le forze dell'ordine hanno già avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Indagini che si avvarranno anche della visualizzazione dei filmati delle videocamere di sorveglianza lungo le principali vie di fuga. L'arma intanto fornisce alcuni preziosi consigli ai cittadini sulle precauzioni da attuare per ridurre i rischi di furto, a partire dalla segnalazione delle fasce orarie in cui statisticamente si verifica il maggior numero di colpi in abitazione, ovvero in orario invernale tra le 17.30 e le 19.30, quando si è ancora impegnati nelle attività di tutti i giorni. Il suggerimento in questo caso è di evitare il più possibile di lasciare la casa vuota e preferire di uscire in momenti diversi. Altra raccomandazione poi è quella di chiudere accuratamente porte e finestre, lasciare almeno alcune luci accese e verificare che i sistemi di videosorveglianza e di allarme siano sempre inseriti ed efficienti. E c'è da dire che dopo l'allarme i carabinieri hanno battuto a tappeto l'intera zona, anche io abito lì e li ho visti passare più volte tra Colle Cioffi e Cutone, insomma i carabinieri presenti però non hanno preso questi ladri che evidentemente sono fuggiti rapidamente. Probabilmente la stessa banda di ladri che ieri ha colpito la periferia di Campobasso, probabilmente arriveranno da fuori Regione. E lo scoop di TV Molise non manca mai, anche oggi abbiamo uno scoop, abbiamo il commissario tecnico della Nazionale Spalletti ai nostri microfoni, Michele Visco. Uno, due, tre, vai! A Castel di Sangro è inaugurata questa mattina la nuova piscina comunale, una struttura dalle caratteristiche semiolimpioniche. Ne abbiamo parlato col campione di nuoto Massimiliano Rosolino, col sindaco Angelo Caruso e con il CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti. In realtà anche nella giornata ideale, perché l'ho ripetuto più di qualche occasione, perché noi immaginavamo sempre la neve all'esterno, dalle vetrate che caratterizzano questa struttura nel rapporto con l'esterno. Era un sogno sostanzialmente che accompagnava l'avvio di questo transatlantico, di questa struttura di straordinaria realizzazione nei tempi, nella celerità, tre anni e mezzo, nella tecnologia, quindi la più avanzata che il mercato offre e anche quella più strategica dal punto di vista territoriale, quindi che assolve e raccorda tre territori, tre province e sicuramente una grande predisposizione per i diversamente abili. Abbiamo tutto quello che consentirà a questa struttura di prendere un decollo davvero straordinario. Ormai lo sport vive 365 giorni l'anno e questi comprensori, comunque queste zone, hanno bisogno di sport 365 giorni l'anno. E l'acqua, paradossalmente, che a volte ci dimentichiamo che esiste giugno, giugno e agosto, invece è un servizio che per i più piccoli e per i più grandi, è un modo per affrontare sia lo sport ma proprio di respirare meglio. Queste strutture dentro un contesto di questo livello qui è il massimo perché ti dà la possibilità di andare a prendere ancora i risultati migliori mantenendo questo contatto con questa bellezza di questo posto. Bravi, veramente bravi a Castel di Sangro, bravo il sindaco, bravo l'amministrazione comunale. Loro sì che l'hanno fatta la piscina. Noi a Esernia aspettiamo ancora le promesse, vabbè, le promesse di Pinocchio, ma che non vengono mai mantenute. Michele Carmosino, 76 anni di Vasto Girardi, ha conseguito la sua decima laurea, un vero e proprio record che fa di lui un autentico collezionista di lauree. Questa volta si è laureato con il massimo dei voti in comunicazione biomedica scientifica alla Sapienza di Roma. La sua prima laurea in ingegneria risale all'inizio degli anni 70. Un personaggio molto conosciuto a Esernia, ha lavorato anche al Comune dopo la pensione. Insomma, una persona molto conosciuta, estimata, 10 lauree, insomma, vedo lui. Consiglio Comunale d'Urgenza a Esernia per consentire la proroga del contratto di riscossione dei tributi alla società Ica Creset. Insomma, dobbiamo pagare le tasse perché altrimenti vediamo Carla Marino. Braccio di ferro tra maggioranza e opposizione al Comune di Esernia sulla durata della proroga del contratto di riscossione coattiva dei tributi alla società Ica Creset, laddove l'amministrazione aveva proposto un prolungamento di due anni. La minoranza ha chiesto e alla fine ha ottenuto che la proroga fosse di durata più breve, ovvero sei mesi. La questione, tra l'altro, ha richiesto la convocazione urgente della seduta consigliare, vista l'imminente scadenza dei termini. Purtroppo c'è in scadenza il 30 di novembre la proroga del contratto a Ica Creset per la riscossione dei tributi. Siccome la scadenza cadeva proprio il giorno del 30 novembre, il parere dei revisori dei conti è arrivato un po' in ritardo. Giovedì pomeriggio abbiamo dovuto convocare con urgenza questa seduta proprio per l'approvazione della proroga del contratto. Sul tavolo del Consiglio anche la variazione al bilancio per il finanziamento dei nuovi loculi del cimitero principale e per l'ultimazione dei lavori del centro Alzheimer. La variazione serve per fare il mutuo per il nuovo cimitero. L'opera è da circa 3 milioni, per ora circa 1 milione e 3 coperta con le prenotazioni che sono arrivate. 1 milione e 7 di nuovo mutuo che però sarà ripagato dalla vendita dei loculi stessi. Al tempo stesso per efficientare in modo definitivo il fabbricato dell'ex quinto settore destinato al centro Alzheimer, due terzi delle risorse, quindi circa 250 mila euro verranno dal gestore dei servizi elettrici con il cosiddetto fondo per il conto termico e il resto verrà messo dal comune. Quindi a breve approvazione del progetto esecutivo, gara e a gennaio-febbraio partiranno i lavori, qualche mese e si termina tutto. Insomma, in sintesi, la notizia più tasse per gli servini e più debiti per il comune. Facciamo anche un altro mutuo, ci mancavano i mutui. Al comune di Isernia, sventata dai carabinieri l'ennesima truffa ai danni di un'anziana tra Capo Basso e Oratino, uno dei truffatori ha contattato telefonicamente la donna chiedendo denaro per risolvere un presunto problema familiare. Ma l'anziana, nonostante lo spavento iniziale, non si è fatta ingannare e ha chiamato subito i carabinieri. Quando i truffatori si sono presentati, hanno trovato i militari ad attenderli. Uno dei due è stato arrestato, mentre l'altro è riuscito a svignarsela. E ora parliamo dell'ITR, una piaga sempre aperta di Isernia, perché mentre per Boiano, l'ex Gamme, per Pozzilli, l'Unilever pagano puntualmente la cassa di creazione, gli ex-ITR sono, come dire, dei lavoratori di serie B. A loro la mobilità non viene pagata dal 2019. Vediamo Antonio Leone, che ha sentito. Filomena Calenda. Dopo mesi di attesa da Roma è arrivato il via libera per lo sblocco dei fondi destinati alla mobilità inderoga per 231 lavoratori della ex-ITR, 12 remensilità autorizzate dal Ministero del Lavoro, oltre agli ex dipendenti dell'azienda Tessile di Pettoranello. La misura servirà per liquidare anche le spettanze di altri ex-operai di aziende ormai fallite nell'area industriale di Pozzilli. Per gli ex-ITR si tratta dell'annualità 2019 pagata con ben 5 anni di ritardo, a testimonianza di come per loro la mobilità inderoga venga erogata con estrema lentezza. E dopo lunghi tiri e molla tra le parti, chi da sempre si è fatta portavoce delle istanze di questi lavoratori è Filomena Calenda, l'ex assessore regionale al lavoro. Anche nei mesi scorsi ha esortato il suo successore Gianluca Cefaratti a sbloccare la situazione di impasse venutasi a creare. Oggi abbiamo avuto una bellissima notizia, ma che in realtà già avevo avuto anch'io da qualche giorno, però ahimè aspettavo che fosse l'assessore Inpectore Gianluca Cefaratti a darne notizia. Un risultato continua la calenda, che non può avere un colore politico e su cui nessuno ci può mettere il cappello. Un chiaro riferimento alla consigliera del PD Fanelli che per prima ha annunciato lo sblocco dei fondi. Io dico che ci ho sempre lavorato perché ricordo ancora il 2018 portai in aula, in consiglio regionale, una mozione che impegnava il governatore e l'intero consiglio a prendere posizione sulla questione proprio della mobilità in deroga. La consigliera Fanelli che ringrazio, perché io ho già detto, ho già dato delle dichiarazioni, la ringrazio, perché in realtà quando c'è da prendere i meriti sono tutti bravi. Buone notizie, sì ma sempre provvisorie, spiega ancora la calenda, sottolineando come in realtà il vero obiettivo deve essere quello di ricollocare tutti gli operai sui tempi d'attesa per l'erogazione dell'ammortizzatore sociale. Calendaron ha dubbi in Molise, ci sono lavoratori di serie A e di serie B. Una considerazione che trova d'accordo proprio gli ex-ITR che più volte hanno rimarcato il maggiore interesse della politica regionale per le vertenze gamma e unilever, dimenticando invece che per lunghi mesi intere famiglie sono rimaste all'asciutto. I lavoratori, così come ho già detto tante volte, dell'ex-ITR non sono lavoratori di serie B rispetto ad altri, perché la provincia di Sernia merita rispetto e io oggi ne vedo proprio poco. Ad onor del vero, io ho sentito personalmente l'assessore Cefaratti, il quale mi ha detto che la notizia dello sblocco dei fondi da Roma ancora non arriva e quindi non c'è niente di ufficiale. Queste sono tutte, come dire, sono tutte interpretazioni della realtà, però la verità è che ancora non viene il Via Libera da Roma e quando verrà il Via Libera da Roma, Cefaratti farà una conferenza stampa. Intanto a Campobasso, italiani nel mondo, ce ne parla Francesco Adamo. Conferenza internazionale, gli italiani nel mondo a Campobasso, gli emigranti, una risorsa turistica, economica e culturale. Il fenomeno particolarmente sentito nel Molise, ben 700.000 i molisani sparsi nel mondo. Hanno ancora il loro cuore lasciato, diciamo, gran parte dei sogni, delle speranze qui nella terra del Molise e quindi il loro legame con le proprie radici, con le proprie origini è forte e noi dobbiamo coltivarlo e in qualche maniera dobbiamo saperlo accogliere in modo tale che la loro vicinanza è per noi forza e soprattutto la nostra vicinanza a loro è una speranza di continuare a far crescere questo Molise. Ci sono periodi storici dove cambia il modo di fare economia, cambia le attività produttive e quindi ci sta che possa esserci un fenomeno di emigrazione. Ma questo non vuol dire oggi che ci sono possibilità di essere comunque collegati alla propria regione, al proprio paese. Dobbiamo fare in modo che questo collegamento diventi permanente e quindi nessuno si sente solo, nessuno si sente a cuore la nostalgia perché si sente comunque sempre solo vicino alle sue origini. Nel corso dei lavori è presentato il progetto Ritorno in Molise iniziativa promossa dalla CIM nell'ambito del Bando 2024, Turismo delle Radici. Per la verità i molisiani nel mondo, come dicevo nel mio intervento, sono addirittura 700.000 quindi il doppio di quelli che vivono nel Molise. Sono una ricchezza, non sono più emigranti perché sono la seconda, la terza, la quarta generazione gente di successo, quasi tutti imprenditori e devo dire che possono sicuramente rappresentare una ricchezza non solo per l'aspetto turistico ma perché possono investire, alcuni l'hanno già fatto investire, fare fabbriche, fare stabilimenti. Spesso l'abbiamo dimenticato, c'è stato un errore culturale nel valutare appieno la grande potenzialità degli italiani nel mondo. È stato fatto quest'anno, è stato dichiarato, anno del turismo di ritorno ma il Ministero degli Esteri per la verità non è che ne ha combinate di giuste. Però gli italiani nel mondo non hanno bisogno di essere sollecitati, ritorno perché si sentono più italiani di noi e questo bisogna ricordarlo. Ed ora a Isernia con Antonio Leone dove si è celebrato il 25esimo anniversario della LAI. Un traguardo forse inimmaginabile 25 anni fa e invece la cooperativa LAI celebra il quarto di secolo con uno spettacolo teatrale all'auditorium di Isernia in collaborazione con la compagna Cast e la musica dei Martinique a Boison. L'obiettivo della cooperativa in questi anni è sempre lo stesso, favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei diversamente abili diventando un punto di riferimento per tanti giovani che sembravano non avere futuro. Un grandissimo traguardo, un quarto di secolo di attività, di storia e di cammino che è stato fatto nell'ambito della disabilità ma soprattutto dell'inclusione e dell'integrazione lavorativa. Un compleanno dal sapore agrodolce per la recente scomparsa del fondatore della LAI, Nino Santoro. Nino è stato il padre fondatore, uno dei motori trainanti della cooperativa LAI, un visionario ma soprattutto una spina nel fianco perché comunque era sempre presente ai tavoli istituzionali, bussava a tutte le porte affinché ogni persona con disabilità potesse avere la sua opportunità di crescita e di vita. Tante le attività che in questi anni hanno visto protagonisti i ragazzi della LAI. Entrare comunque in cooperativa, vederli sempre con il sorriso, comunque da una grande motivazione e questo è stato proprio il sorriso e quello che ci ha fatto arrivare fino a 25 anni perché loro comunque trasmettono tutta questa voglia a tutti noi che lavoriamo nella cooperativa. Attività che quest'anno sono aumentate con un nuovo progetto di produzione dell'olio d'oliva. Quest'anno abbiamo iniziato una nuova attività perché come sapete noi ci preoccupavamo maggiormente di conservare e diffondere quella che è la nostra regina, il bulbo di Isernia, che è la cipolla bianca di Isernia. Quest'anno abbiamo aggiunto l'olio, abbiamo iniziato questa nuova avventura e devo dire che i ragazzi sono stati veramente sorpresi positivamente perché per loro è stata la prima volta, ma nonostante la prima volta è come se l'avessero già fatto. E allora tanti auguri a questi splendidi ragazzi e a chi ha realizzato il loro sogno, compreso il compianto e indimenticabile Nino Santoro. Ed ora un salto a Pozzilli dove c'è stata la giornata nazionale del Parkinson. Sentiamo Caterina Gianfrancesco. Come scriviamo Morbo? M apostrofo Orbo di Parkinson. Purtroppo ci vede bene e fa molto male. Alessandro Ariemma ha un diario, diciamo così, una raccolta di testi che parlano del Parkinson, parlano di vita quotidiana e quanto è importante poi affrontare un esempio, diciamo così. Questa è una cosa che mi è partita spontaneamente quasi un anno fa. Io faccio parte dell'associazione Parkinson Marche, sezione di peso al urbino e da zero siamo arrivati a contare circa 150 soci tra malati e familiari. Il problema del Parkinson non riguarda soltanto chi ha la fortuna di avere il Parkinson, bensì i familiari, i familiari che vedono modificare il rapporto, lo status, le condizioni, le abilità, la consapevolezza e la capacità di gestione del quotidiano. Trovate a fare due passi, vai? Dove si sta? Pensa che adesso inizio di libero sarete tornati in ormai. Allora questo non succede. Porca paletta. Cerchiamo di lavorare sulla persona, facendola migliorare in tutti i campi possibili dove la persona si vuole migliorare e come sappiamo, come scopriamo da bambini, i campi dove ci possiamo applicare sono quelli della musica, quelli dell'arte e quelli dello sport. E quello che facciamo qui in Molise, così come in Sardegna, alle Canarie è di lavorare sullo sport, su diverse tecniche che hanno a che fare con gli sport acquatici come il surf, la vela, il kitesurf, oppure qui a Castel San Vincenzo, la canova, l'arrampicata, oppure all'isola i temiti con lo scuba, oppure con lo snorkeling e col surf. Quindi cerchiamo di insegnare loro diverse tecniche, come con l'arte e con la musica si apprendono diverse tecniche. L'obiettivo è quello che la persona si fortifichi nel suo cervello, sviluppi capacità e adattamento che poi lo aiuteranno ad adattarsi ai problemi che la malattia pone nella vita di tutti i giorni. E devo dire che vediamo dei bellissimi risultati. Continuiamo a sognare e a sghignazzare. E sempre a lì bisogna stare, il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Bene, siamo in chiusura. Prima di vedere l'ultimo servizio vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la trasmissione sportivamente alle 21.45, canale 12. Abbiamo con noi il presidente del Real Prata, il capitano, Luigi Conca ed Emiliano Russo. Questa sera alle 21.45, canale 12. E ora l'ultimo servizio, l'anteprima sport di Michele Visco. Lega Pro, girone B, la giornata è la numero 17. Serie D, Girona F, la giornata è la numero 14. Atletico Ascoli, Vigor Senigallia, Civitanovese Calcio, Soracalcio, Fermana Calcio Termoli, Fossombrone Avezzano Calcio, L'Aquila, Città di Isernia, San Leucio, Notaresco Ancona, Re Canatese Chieti, Roma City Football Club Castelfidardo, San Benedettese, Città di Teramo 1913. Eccellenza, giornata numero 13, Calcio Virtus Gioiese, CNC Sporting, Ripalimosani Boiano, Atletico San Pietro in Valle, Real Guglionesi, Calcio Montereto, Isernia Fraterna, Football Club Matese, Sesto Campano Calcio, L'Impiegnonese, Aurora Alto Casertano, Vasto Girardi, Bois Fairano e Benafro, Castellisangro, Cepp 1953. Promozione, giornata numero 13, Morcone Calcio, Locom di Riccia, Baranello, Spinete, Chaminade Campobasso, difesa Grande Termoli, Roccaravindola, Polisportiva M Juvenes, Polisportiva Fortore Guardial Fiera, Forulum Trivento, Polisportiva Calena, Atletico Torre Maggiore, Ruffe Presenzano, Alife. Chiudiamo con la prima categoria, girone A, giornata numero 11, Campobasso Calcio, Campo di Pietracalcio, Pozzili, Sant'Angelo Limosano, Mirabello Calcio, San Giovanni Ingaldo, Ala Fidelis, Monteroduni, Atletic Mignano, Audax Pietramelara, Olimpi Chisernia, Santa Capito, Montenero, U.S. Fornelli, Domenico Desisto, Volturnia Calcio, Vinchiaturo. Grazie, grazie dell'attenzione, buon sabato e buona domenica, passo la linea ai colleghi dell'Abruzzo. Buona giornata. Grazie.